Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Zelensky annuncia l'attacco russo alla centrale di Zaporizia, dichiarando che hanno piazzato ordini sul tetto della centrale. Questo è il tema principale, il tema di più stretta e drammatica attualità. Poi tra l'altro da annotare che Zelensky ha annunciato che per il futuro, ha dichiarato che l'Ucraina sarà il primo paese al mondo ad abolire il contante, che l'inglese diventerà la limba ufficiale del paese. Partiamo da questo punto, in particolare dal rischio di attacco, poi vedremo adesso dai nostri ospiti se è un annuncio falso, da chi potrebbe avvenire effettivamente l'attacco alla centrale di Zaporizia. Presento i miei ospiti, benvenuto, ben ritrovato Paolo Borgognone, storico scrittore. Ciao Paolo. Grazie, grazie Carlo per l'invito. Un buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono. Benvenuto Stefano Vernole, vicepresidente della CESEM a Centro Studi Eurasia e Mediterraneo. Buonasera, grazie. Allora, Stefano, questo attacco alla centrale di Zaporizia, le affermazioni di Zelensky, cosa sono? Un annuncio ufficiale serve per confondere le acque e per bleffare? Beh, sarebbe ridicolo se le conseguenze non potrebbero diventare tragiche. Ridicolo perché la centrale è chiaramente in mano ai russi, quindi non avrebbe nessun senso per i russi che stanno difendendo molto bene, tra l'altro i versanti di Zaporizia, farsi un autoattentato, diciamo, non si capisce per quale ragione dovrebbero farlo. Secondo luogo, la stessa IEA, c'è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, tra l'altro lì il capo della missione è un italiano, grossi, quindi non vorrebbe essere neanche difficile capire quello che dice, anche qua in Italia, ha mentito assolutamente che i russi abbiano piazzato dell'esplosivo sul tetto della centrale, come invece hanno detto gli ucraini. In terzo luogo, se proprio i russi volessero fare degli attacchi a delle centrali, lo farebbero alle centrali che sono in mano agli ucraini, non l'unica centrale che è in mano russa, che peraltro fornisce il sistema elettrico a tutto il territorio che è sotto il controllo russo. Quindi è evidente che si tratta di un possibile pretesto. Qual è lo scopo, quindi, secondo te? Lo scopo, purtroppo, potrebbe essere estremamente pericoloso, nel senso che se mediaticamente dovesse passare l'idea che la Russia ha fatto, diciamo così, saltare, ha creato un incidente nucleare, a quel punto intanto bisogna dire che c'è già una risoluzione del congresso, tra l'altro bipartisan, democratici e repubblicani, sul fatto che se dovessero verificarsi delle perdite radioattive sul territorio dell'Ucraina, gli Stati Uniti e la Nato dovrebbero intervenire direttamente nel conflitto. Questo, tra l'altro, avverrebbe proprio poco prima del vertice di Vilnius, la prossima settimana, il vertice della Nato, al quale, come ha scritto proprio oggi, tra l'altro un analista russo Boris Karpov, a quel punto l'Ucraina potrebbe entrare a far parte, essere ammessa direttamente nella Nato e quindi scatterebbe il famoso automatismo dell'articolo 5, per cui essendo l'Ucraina entrata nella Nato dopo questo incidente di carattere nucleare, la Nato farebbe un ultimatum alla Russia, affinché si ritiri comunque almeno dal Damas e delle altre zone che loro definiscono occupate, però diciamo che a quel punto le questioni sono due, come dice appunto questo analista russo, o effettivamente la Russia accetta l'ultimatum della Nato, oppure a quel punto è più facile che la Russia metterebbe in allerta tutte le proprie forze nucleari strategiche e si potrebbero verificare anche degli attacchi nucleari tattici alle basi nate in Europa e quindi ci sarebbe purtroppo quello che è lo scoppio, chiamiamo la terza guerra mondiale o come vogliamo, però ci sarebbe il coinvolgimento diretto appunto dell'Europa nel conflitto e con danni per niente lievi. Paolo, questo possibile incedente attacco alla centrale di Zaporizia potrebbe essere un momento di svolta del conflitto? Perché l'attacco alla centrale nucleare di Energodar nella regione di Zaporizia? Probabilmente a qualcuno, all'esercito ucraino serve portare dei risultati al tavolo della Nato, al tavolo del vertice dei Vilnius, dei risultati militari e siccome questa controffensiva che è stata lanciata dagli ucraini il 5 giugno o 4 giugno scorso, un mesetto fa, non ha portato i risultati sperati, almeno nel primo mese di combattimenti la situazione non è cambiata in favore degli ucraini, hanno guadagnato pochissime centinaia di metri, qualche villaggio sperduto nella steppa di Zaporizia, qualche villaggio sperduto nella steppa di Donetsk, ma nessuna svolta strategica e non sono neanche riusciti ad arrivare in prossimità della prima linea difensiva russa e nonostante ciò hanno riportato negli scontri, nelle battaglie, numerosi morti, decine di migliaia di morti, si parla almeno di circa 10-13 mila morti in un mese e hanno perso circa il 30% se non di più delle forniture militari avanzate fornite loro dalla Nato, per cui è una disfatta totale, certo i giornali qui non lo possono dire perché pochi giorni prima che questa offensiva cominciasse Repubblica aveva attitolato scacco matto alla Russia, l'offensiva Ucraina non potrà che avere successo, a Putin restano pochi giorni per trattare e ritirarsi perché con le armi della Nato non c'è partita per i russi in Ucraina, per cui di fronte a dei titoli del genere poi è chiaro che rimangiarsi tutto diventa difficile. In effetti questa controffensiva è stata una disfatta, se noi qua avessimo una informazione indipendente, un'informazione a livello mainstream, diciamo così, un minimo obiettiva, non dico tanto, un minimo obiettiva che non è propaganda di guerra, invece è propaganda di guerra, fa solo propaganda di guerra, per cui è chiaro che si muove in quell'ottica, riconoscerebbe che ci sono dei problemi e questi problemi devono essere in qualche modo risolti, perché al vertice di Vilnius l'Ucraina deve portare dei risultati. Adesso ha una settimana di tempo per portare dei risultati adesso. Non ha il tempo necessario per sfondare le linee russe al sud e arrivare fino a Melitopol e a Berdyansk, dunque a tagliare la via d'accesso terrestre dei russi tra il Donetsk e la Crimea. Non ce la può fare, per cui deve inventarsi qualcos'altro, deve inventarsi un piano B, qualcosa di clamoroso. Siccome non può portare i risultati al tavolo della Nato e se non porta nulla in termini di risultato, rischia che la Nato perda fiducia nell'Ucraina stessa e arrivi addirittura a ridurre le forniture, cosa che segnerebbe la fine dell'Ucraina come stato integro, perché la Russia la travolgerebbe. Per cui, visto che non si possono portare risultati, ma si deve comunque ottenere qualcosa, si può portare uno shock. Si può portare un elemento di forte provocazione, di forte impatto emotivo, simbolico, anche strategico, come ad esempio un attacco, un'esplosione alla centrale nucleare, per poi comunque poter scombinare le carte sul tavolo della riunione del vertice della Nato, perché se l'Ucraina arriva al vertice della Nato con niente in mano, la Nato perde fiducia. Con le conquiste territoriali non ci può più arrivare, perché il vertice è la prossima settimana e se non ce l'hanno fatta in un mese, neanche ad arrivare alla prima linea russa, difficilmente potrebbero arrivarci e avranno possibilità di arrivarci in una settimana. E allora che fare? Portare un elemento che non possa far dire di no alla Nato a un eventuale coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto, c'è un'esplosione nucleare, un elemento che fa scaturire naturalmente una catastrofe, attribuito ai russi e la Nato cosa dice a quel punto lì? I russi hanno attaccato l'Ucraina con un atto deliberato di terrorismo nucleare, inseriamo l'Ucraina nella Nato, diamo una svolta interveniamo. Ora, io non so se questo accadrà, qui siamo nell'ambito delle ipotesi, però dico io, preventivamente faccio una diagnosi preventiva, sgombrando il campo dall'ipotesi, perché poi magari questo attacco e questo incidente non accade. Ma sti russi sono così cretini, secondo voi, da bombardarsi la centrale nucleare di Energodar? I russi sono stati, secondo voi, così cretini da bombardarsi e da farsi crollare il ponte di Kerch in Crimea? I russi, secondo voi, sono così cretini e sono stati così cretini da arrivare al bombardamento e alla distruzione, in quel caso autodistruzione della diga, scusate, l'Apsus di Kakova? Ma assolutamente no, anche perché i russi da tutti questi eventi non possono che trarre degli enormi, sottolineo enormi svantaggi, perché il ponte di Kerch serve loro per il passaggio dei rifornimenti dalla regione di Rostov alla Crimea e dunque facilita la linea logistica, accorcia le linee logistiche per effettuare dei rifornimenti alla Crimea. Senza il ponte di Kerch la Crimea sarebbe isolata o parzialmente isolata, perlomeno, comunque sarebbe più difficile rifornirla. La diga di Kakova serve ai russi per due cose, uno alimentare dal punto di vista energetico della luce elettrica la Crimea, due serve naturalmente per tenere in vita un confine naturale, in questo caso il bacino del Dnepr, che separa la Russia stessa, l'esercito russo da quell'ucraino in quella regione. E la centrale nucleare di Energodar, se venisse distrutta, a parte il fatto che serve ai russi per le forniture energetiche a tutto il sud dell'Ucraina, ma a parte quello, se venisse distrutta, secondo voi, le radiazioni dove andrebbero a finire? Andrebbero a finire con ogni probabilità nel territorio annesso dalla Russia, Kherson, Zaporozhye e Donetsk, per cui di fatto la Russia non farebbe altro che un atto di autolesionismo pazzesco. E la stessa cosa, e chiudo, e scusate se mi sono dilungato troppo, riguarda la Diga. La Diga esondando, la distruzione della Diga ha provocato un'esondazione e ha distrutto tutte le linee difensive della Russia nella regione di Kherson, per cui ha dato un vantaggio agli ucraini e uno svantaggio alla Russia. Ma scusate, perché la Russia avrebbe dovuto darsi la zappa sui piedi da sola per ben tre volte? Cui protest? Certo, la domanda è chiarissima, però Stefano, questo servirebbe come questa false flag, chiamiamola così comunque, questo servirebbe come alibi, mediaticamente come alibi, per far intervenire a quel punto la Nato, no? Quindi è quello lo scopo alla fine, cioè fornire un alibi che sia mediaticamente creduto, no? Perché alla fine credo io che il tutto si giochi su una credibilità da un punto di vista mediatico, no? Cioè le cose devono essere fatte, direi col favore, direi a quel punto della pubblica opinione, no? Quindi questo sarebbe un alibi, potrebbe essere l'alibi perfetto per la Nato, chiamiamola Nato in realtà per gli Stati Uniti. Certo, il caso Sbelli. Sì, infatti c'è la situazione paradossalmente pericolosa proprio perché la controoffensiva ucraina finora si è dimostrata inefficace. Cioè proprio questa è la ragione e spiego perché, no? Faccio un ragionamento relativamente ad alcune analisi che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Diciamo che ci sono due linee, sia da una parte che dal lato, sia da parte occidentale che da parte russa. Al di là delle minoranze, diciamo le due linee maggioritarie sono, da parte occidentale c'è la linea dell'amministrazione Biden che più o meno è abbastanza, diciamo, speculare a quella della linea finora tenuta dallo Stato maggiore russo. Cioè entrambi sono convinti di vincere tramite una guerra di logoramento. Quindi entrambi in pratica potrebbero anche accettare, diciamo, una parziale tregua. Il problema che l'accettazione di questa parziale tregua da parte degli Stati Uniti e della Nato potrebbe avvenire soltanto in caso l'Ucraina riuscisse a riconquistare almeno appunto una porzione del territorio perso, no? E quindi la scadenza del vertice nato di Vignus da questo punto di vista è praticamente vincolante. Perché poi la tregua bisognerebbe farla adesso perché poi dopo appunto si entra… È vincolante ma è possibile anche? Perché? E il fatto che gli ucraini riescano appunto a riconquistare? Credo di no a questo punto. No. Vista la situazione sul campo di battaglia… Anche perché mancano appunto sei giorni al vertice di Vignus in Vintuania. Credo sinceramente di no. Il problema che poi c'è dall'altra parte è a sua volta invece una linea completamente diversa che è quella portata avanti soprattutto, diciamo, dai servizi segreti britannici, dai neocons americani, che quindi non è la linea proprio di Biden o del generale Milley, che è il capo di stato maggiore americano. È una linea oltransista che ritiene che comunque la Russia in ogni caso l'abbia già perso. Proprio perché non è riuscita ad occupare l'Ucraina all'inizio, cioè non è riuscita a prendere Kiev, che comunque è convinta che sulle sanzioni economiche metteranno comunque la Russia prima o poi per terra e che comunque l'Ucraina ha dimostrato di poter colpire il territorio russo più o meno quando vogliono e che quindi bisogna dargli il colpo di grazia. E prima questo va fatto meglio è. Perché tra l'altro i sostenitori di questa tesi non ritengono nemmeno che la Russia abbia la reale volontà, come facciamo un po' capire anche questo analista russo Karpov stamattina, di rispondere con un rappresentante di tipo nucleare. Perché dicono comunque la situazione è molto instabile, la società andrebbe in preda al panico, eccetera. Quindi più la controoffensiva ucraina va in difficoltà, più il rischio che si arrivi ad un possibile incidente che diventa il pretesto per un coinvolgimento diretto della Nato nel conflitto esiste. Senti Stefano, parliamoci chiaro, sono giorni questi qui adesso pericolosissimi? Sì sì assolutamente, ma infatti anche da parte russa c'è questa sensazione, perché al di là appunto della linea ufficiale del Cremlino, dello Stato Maggiore russo, c'è tutta una serie invece di analisti militari, che sono tanti, che dicono che la Russia si ha in ritardo su tutta una serie anche di mobilitazione, al di là della mobilitazione totale dei soldati, che finora è stata fatta solo quella parziale, ma anche una mobilitazione della società. Cioè la società russa deve prepararsi a uno scontro frontale con la Nato e con l'Occidente, perché loro ritengono molto probabile che questo avvenga e anche in tempi brevi. E quindi la sensazione che si stia andando verso una rotta di collisione totale tra la Russia e la Nato è forte anche in diversi ambienti militari russi. Per questo io tendo a sottolineare la pericolosità di questa situazione. giorni molto pericolosi, estremamente pericolosi Paolo? Sicuramente, perché si va verso un'escalation costante e ci sono appunto dei rischi molto concreti, perché come detto l'Ucraina ha tre opzioni con cui presentarsi al vertice di Vilnius. Uno, con niente in mano e questa sarebbe l'opzione più spiacevole per l'Ucraina, perché appunto non otterrebbe che svantaggi da una simile opzione. Due, presentarsi con delle conquiste territoriali non di pochi villaggi sperduti e non strategici, ma con una conquista importante, una città importante o una porzione di territorio importante e questo ormai è quasi impossibile, stante i rapporti di forza sul campo. Tre, presentarsi con un casus belli, un casus belli che potrebbe così istigare in qualche modo, persuadere in qualche modo la Nato a intervenire più direttamente nel conflitto. Ripeto, sono ipotesi, ma sono ipotesi che sono al vaglio degli attori di questo conflitto. È un conflitto che comunque si sta notevolmente radicalizzando dal punto di vista propagandistico, dal punto di vista delle azioni riguardanti la guerra psicologica. Da questo punto di vista siamo ormai a una radicalizzazione del conflitto perché è stata ormai posta una sticella troppo elevata rispetto a quelle che sono le reali dinamiche di una guerra tradizionale che può avere un punto d'inizio, un apice e poi elementi e fasi di escalation fino a una tregua o addirittura un trattato di pace. Qua è stato detto chiaramente sulla scorta della dottrina neocon della guerra infinita risalente a una ventina di anni fa, subito dopo l'8 settembre, scusate l'11 settembre, l'Apsus Freudian, l'11 settembre eccetera, che le guerre non finiscono mai, cioè le guerre si dichiarano e non sono guerre per arrivare a un risultato con un avversario riconosciuto e poi si può stipulare una tregua eccetera. No, assolutamente no, si comincia le guerre con un avversario che poi è un nemico che tu non riconosci più, di cui non riconosci neanche l'esistenza e di cui tu, neocon, attui strategie di guerra per arrivare alla sua destabilizzazione, all'arrovesciamento e alla distruzione delle sue strutture sociali statali, per cui attenzione è stata fissata un'asticella altissima e qual è questa asticella? La distruzione della federazione russa, lo smembramento della federazione russa. All'inizio si diceva si può arrivare a una trattativa, neutralità della Nato, poi si è detto, sempre dal punto di vista neocon e dei media loro collegati, no, attenzione, si arriverà, loro la chiamano pace giusta, ma questa è parte della propaganda, utilizzare questa terminologia, si si, si arriverà una pace giusta quando la Russia si ritirerà dall'Ucraina, no, completamente dunque anche dalla Crimea e questo già è impossibile, questo già è impossibile, se volete dopo si può parlare del perché, è impossibile, ma che la Russia abbandoni la Crimea è totalmente impossibile, se ne faccio una ragione. Spiegalo pure già adesso Paolo. Perché la Crimea è la culla della cultura tradizionale nazionale russa, punto, per varie ragioni storiche, il battesimo del principe Vladimir di Kiev che è avvenuto secondo la tradizione a Kherson che all'epoca nel 1988 dopo Cristo era una città della Crimea, per ragioni legate al prestigio e anche alla utilità pratica della flotta del Mar Nero che per la Russia è irrinunciabile, per il fatto che il 70% degli abitanti della Crimea e di Sebastopoli sono russi, per il fatto che questi abitanti vogliono stare con la Russia, per cui se dovesse rovesciarsi la situazione sul campo ci sarebbe una catastrofe anche umanitaria perché si tratta di milioni di persone, eccetera. Dunque questi sono i motivi, poi anche per un fatto molto concreto, da nove anni la Crimea è sotto amministrazione russa e la Crimea è stata russa ininterrottamente dal 1783 fino al 1954 perché poi ci fu il passaggio sempre nell'ambito dell'Unione Sovietica, ma di fatto è stata in un territorio egemonizzato in qualche modo dai russi fino al 1991 e solo dal 1991 al 2014 e sempre in maniera molto critica e anche abbastanza conflittuale dal punto di vista politico è stata sganciata dalla Russia, attenzione. Però dicevo, lo scorso anno in primavera e estate appunto i media Neocon affermavano che la pace giusta si sarebbe raggiunta se i russi si fossero ritirati completamente dall'Ucraina, già cosa irrealizzabile e è pretesto questo per legittimare la guerra infinita. Ora non si dice più neanche quello, ora si dice che la guerra per l'Occidente sarà persa se la Russia non capitolerà, dunque se la Russia rimarrà integra e in piedi come Stato federale ma unitario nel periodo post bellico, cioè se la guerra non provocherà lo smantellamento della federazione russa, per cui è stata tramutata questa guerra della Nato contro la Russia in una guerra esistenziale per entrambi i campi. Per entrambi, mentre prima mediaticamente lo era solo per la Russia, adesso a parole. Chiudo dicendo questo, se la Russia perde, la Russia rischia lo smantellamento e lo smembramento e questo naturalmente i russi non lo vogliono. Ma se l'Occidente perde, è la Nato a rischiare la sua stabilità, è la Nato a rischiare di perdere, no, gli Stati Uniti che guidano la Nato a rischiare di perdere l'egemonia. Per cui una guerra esistenziale per entrambi i campi e una guerra esistenziale per entrambi i campi è difficilissima da risolvere con un armistizio, una tregua, un doubt des, eccetera. Proprio perché ormai l'Occidente ha elevato a una linea, a un livello ormai insostenibile, le proprie ambizioni riguardo alla guerra. Ha detto che questa guerra potrà finire solo con la capitolazione della Russia e la Russia di capitolare sembrerebbe non avere intenzione. Chiarissima l'affermazione, però adesso hai chiuso con una cosa sulla quale ti chiederò fra poco. Mentre a Stefano, Stefano Vernole, ti ho visto fare ampi ceni di assenso quando Paolo parlava di asticella troppo elevata. Ti ho visto fare ceni di assenso ampi. No, ma infatti, faccio un proprio esempio, John Mersheimer che è un analista americano, un realista, cioè un neocons, ha fatto chiaramente capire che ormai come la pace sia impossibile. Cioè, proprio perché appunto la sfida è ormai esistenziale. C'è il problema territoriale per il quale ovviamente Putin si gioca di base alla rielezione, perché ha fatto fare il referendum sui territori annessi e quindi non è che può più tornare indietro da questo punto di vista. Per non parlare appunto della Crimea, come ha già detto bene Paolo, che anche da un punto di vista geopolitico, solo per il controllo del Mar Nero è assolutamente strategica per i russi. E poi c'è il problema della Nato, che è un problema enorme, questo ancora di più di quello forse territoriale. Il fatto che la Nato sia avanzata così tanto è la causa principale dello scatenamento di questo conflitto. Quindi siccome l'Ucraina ormai, l'ha detto chiaramente, deve entrare nella Nato, ma persino la Francia ha detto comunque sarebbe meglio che l'Ucraina entrasse nella Nato, è chiaro che questo per i russi diventerebbe proprio una minaccia diretta e a questo punto sarebbe possibile soltanto una tregua momentanea che non eliminerebbe il problema, perché anche che l'Ucraina fosse trasformata in uno stato disfunzionale, chiamiamolo, comunque una parte del paese per forza di cose, quella centrale occidentale, rimarrebbe comunque sotto il controllo, magari verrebbe aggregata la Polonia, rimarrebbe sotto il controllo della Nato e quindi diventerebbe una sorta di trampolino di lancio per altri interventi militari contro la Russia. Tra un anno il conflitto riprenderebbe peggio di prima, guardiamo solo la Polonia quanto sta venendo armata dagli Stati Uniti, diventato il principale hub non solo energetico ma anche militare degli Stati Uniti in Europa e così i paesi baltici, la Gran Bretagna, al di là delle dichiarazioni ultime, oggi il responsabile della difesa del Parlamento britannico ha detto chiaramente che bisogna che in caso di provocazione russa bisogna che la Gran Bretagna entri in guerra direttamente contro la Russia, non si può più soltanto delegare l'Ucraina, ormai lo si dice chiaramente, inoltre si è parlato anche di una possibile provocazione in Siria con armi chimiche, proprio perché si vuole far capire che il tentativo anche di normalizzare il Medio Oriente, che la Russia e la Cina stanno conducendo negli ultimi mesi con i rapporti Arabia Saudita, Iran e Siria e Turchia non va bene, i paesi arabi devono capire che non si può essere pace, soltanto l'ordine americano può essere accettato. Questo perché? Perché ormai il conflitto in Ucraina è diventato non soltanto un problema territoriale, ma è anche proprio un problema ideologico, c'è lo scontro democrazie contro autocrazia, i valori tradizionali contro i valori portati avanti invece dall'Occidente e anche poi lo scontro chiaramente, parliamoci chiaro, questo conflitto che ormai dura da quasi un anno e mezzo, ha anche aumentato molto il nazionalismo da entrambe le parti, quindi questo ovviamente fa sì che c'è sempre più difficoltà ad accettare di cedere su una delle due questioni, con l'Ucraina abbiamo parlato molto a lungo, ma anche in Russia c'è lo stesso Dugin che pure è un critico dell'elite al governo che dice al di là di alcune personalità è ancora in gran parte filo occidentale eccetera, però Dugin ammette che ormai il discorso politico dominante in Russia è quello patriottico per cui l'operazione militare va sostenuta fino alla fine e fino anche eventualmente a uno scontro diretto con l'Occidente e quindi anche gli stessi del governo che magari vivono male questa operazione militare speciale, però alla fine capiscono che se vogliono rimanere lì a un certo momento devono seguire quelli che sono gli influssi culturali, le spinte che provengono proprio dal basso, dalla società stessa e quindi ormai siamo a un punto praticamente di un ritorno, un conflitto che forse direttamente potrà essere rimandato ancora per un po' ma che poi purtroppo temo che dovrà avvenire in un qualche modo, a meno che una delle due parti non c'è da prima in virtù della continuazione di una guerra. L'ultima frase di Paolo mi ha messo un po' la curiosità perché ha detto per quanto riguarda la Russia sembrerebbe, hai usato quel condizionale, sembrerebbe non cedere sulle questioni proprio patriotiche. Ho notato che hai usato questo condizionale che tutto sommato non mi aspettavo, ha una sua spiegazione? Sì, la Russia è l'erede dell'impero romano d'Oriente, impropriamente chiamato impero bizantino, un impero che è sopravvissuto mille anni, è durato mille anni e che in qualche modo ha addirittura trasmesso la sua tradizione, con la sua essenza alla Russia, per cui in qualche modo qualcuno potrebbe dire che dura ancora, qualcuno dice no ma è finito nel 91 con la fine dell'Unione Sovietica. Al di là di questo, l'impero romano d'Oriente, impropriamente chiamato impero bizantino, nella sua storia millenaria ha conosciuto momenti di espansione e momenti di contrazione. I momenti di contrazione, che poi alla fine sono stati più di quelli di espansione, sono dovuti, sono stati causati non tanto e non solo dall'abilità e dalla superiorità militare, logistica, economica etc., dei suoi avversari, ma anche e soprattutto dagli intrighi interni all'impero romano d'Oriente, che ne hanno depotenziato la capacità difensiva. E la Russia oggi riprende sia i punti di forza dell'impero bizantino, cioè scusate la parola orrenda, ma devo pronunciarla, la resilienza, cioè la capacità di… parola che in sé per sé non è né bella né brutta, ma è stata strumentalizzata in modo tale che… Adesso è stata strumentalizzata e molto equivocata, molto torta. Se non sei un seguace della Ferragni e di suo marito, questa parola ti risulta ormai veramente orribile, però in sé per sé non è né brutta né bella, è un termine come tanti. Però la Russia questa capacità ce l'ha come ce l'aveva l'impero bizantino e l'ha dimostrata, perché dopo la catastrofe del 1991 in qualche modo si è ripresa. Inoltre a un anno e mezzo ormai, anche di più, dall'attivazione di tutta una serie di sanzioni estremamente importanti, estremamente significative, incisive, contro di essa, la Russia è ancora in piedi. Però attenzione, la Russia dall'impero bizantino ha anche ereditato il bizantinismo inteso come i bizantinismi, non nell'accezione di Leonti, i bizantinismi intesi anche come questa prassi alla pluralizzazione e all'intrigo dei poteri interni. Pluralizzazione dei poteri, intrighi, conflitti interni, ne abbiamo visti anche recentemente. Io temo di più infatti un crollo interno che non un crollo militare, un crollo politico, uno smottamento politico dovuto a un esasperarsi di conflitti interni che non un crollo militare dovuto all'esuberanza dell'esercito ucraino che riesce a sfondare le linee eccetera. Parere mio, opinabile finché si vuole, però nel 1990-91-89-91, ci ricordiamo, l'Unione Sovietica è caduta anche in larga parte perché è interessata da dei conflitti interni e da degli intrighi di potere che ne hanno determinato l'indebolimento sostanziale. Per cui io temo questo. Sarò smentito? Spero proprio di sì. Ecco, questo adesso proprio per andare, avviarci alla conclusione, alla parte finale dell'intervista, volevo proprio girare questa domanda, questa analisi, questa suggestione di Paolo, di Paolo Borgognone a te Stefano. La vedi possibile una implosione interna? Più che una sconfitta militare, perché poi tra l'altro è un'ultima domanda alla quale ti chiederò di rispondere sinteticamente. Hai parlato dei nazionalismi da una parte e dall'altra, è più denso e più forte il nazionalismo russo o il nazionalismo occidentale? Quella era la domanda finale, ma intanto volevo sentire da te, appunto, se è possibile una implosione interna russa? Dunque, sinteticamente cosa sta succedendo? Che l'egemonia mondiale statunitense chiaramente è in pericolo, dopo il tentativo non riuscito di Trump di staccare la Russia dalla Cina, con Biden e gli Stati Uniti stanno giocando il tutto per tutto e quindi in pratica hanno creato questa situazione che alcuni analisti russi hanno definito in maniera interessante, dualismo policentrico, quindi in pratica stiamo andando verso il multipolarismo, però gli Stati Uniti stanno cercando dello stesso di ricreare un nuovo polarismo, per cui con l'intervento in Ucraina è chiaro che per ora la Russia e la Cina hanno accettato la sfida, hanno implementato questa brillante cooperazione anche economico-finanziaria, che per ora ha impedito la vittoria occidentale, che anzi sta mettendo in serie difficoltà il premato del dollaro, con il processo di dollarizzazione. Ricordiamoci anche sempre le parole di Karaganov, in questo ultimo articolo che citavo prima, noi siamo davanti in prima linea, ma la Cina è dietro di noi, che quindi ci sta sostenendo dal punto di vista della guerra economico-finanziaria. Tuttavia c'è un problema, che entrambe, sia la Russia che la Cina, scontano le loro contraddizioni. La Cina meno, perché è più solida dal punto di vista politico interno, però ugualmente la Cina ha delle difficoltà, perché? Perché una situazione globale, instabile, conflittuale, chiaramente rallenta quella che è la propria scesa economica pacifica. La Cina ha bisogno di stabilità e quindi non è che veda sempre di buon auspicio la continuazione del conflitto. La Russia, per quello che in parte dicevamo anche prima, intanto il fallimento del piano iniziale del colpo di Stato e soprattutto l'estrema eterogeneità della sua classe dirigente. Perché è fallito il colpo di Stato? Perché probabilmente qualcuno da Mosca ha giocato sporco. Io non credo nella incredibile brillantezza dei servizi segreti occidentali, credo più purtroppo nel sabotaggio interno da questo punto di vista. E anche la mancanza di un'ideologia, come invece ad esempio la Cina, e che è lo stesso Dughi. Adesso è chiaro, Putin sta cercando di ricreare questa ideologia neoconservatrice, ispirata a cristianesimo ortodosso. Giustamente Paolo ha parlato della Russia re dell'impero romano d'oriente, la terza Roma, eccetera. Certo, se la Russia raccogliesse in maniera compatta, omogenea e in maniera forte questa eredità, probabilmente, così rispondo anche alla tua domanda successiva, il nazionalismo russo assumerebbe un tipo di messianismo che probabilmente sarebbe anche forse superiore sia al nazionalismo che fondamentalmente poi è quello di Stapo, neonazista della Seconda Guerra Mondiale, l'Ucraino, ma soprattutto anche nei confronti di questo nazionalismo occidentale, per cui deve esistere nel mondo un solo modello di sviluppo culturale, economico, sociale, politico, che è quello occidentale. Tutti gli problemi a raccogliere in maniera compatta, a creare un tipo di ideologia forte della propria eredità, sì, a quel punto probabilmente la sfida sarebbe vinta. Il problema è che questo trentennio di politica russa in realtà è stato molto più vicino alle idee liberali occidentali che a questo tipo. Forse solo nell'ultimo anno e mezzo c'è stata un'accelerazione in tal senso. Secondo me gli Stati Uniti hanno accelerato molto il precipitare degli eventi proprio per questa ragione, per non dare il tempo alla Russia di compiere questa trasformazione interna, questa rivoluzione anche interna che secondo me è necessaria. Per cui la Russia con questa accelerazione potrebbe trovarsi in difficoltà, come diceva Paolo, e quindi avere anche dei problemi di tenuta interna. È per questo che tutti gli ambienti ultranazionalisti e russi invece dicono che la Russia deve cambiare ritmo, deve cambiare marcia. Chiarissimo, chiarissimo. Molto, veramente molto interessante anche quest'ultimo intervento. Direi che chiudiamo qui il nostro appuntamento, la nostra intervista che prelude a alcuni giorni veramente molto molto importanti, molto molto pericolosi, che vanno da questo paventato attacco alla centrale di Erdogan e Ebogar fino al vertice della Nato della prossima settimana in Lituania. Quindi staremo a vedere aggiornamenti, ci sarà sicuramente bisogno di aggiornamenti in questi giorni. Io ringrazio moltissimo lo storico scrittore Paolo Borgognone. Grazie Paolo. Grazie, grazie davvero. E grazie al vicepresidente del CESEM, Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, Stefano Vernole. A presto. Grazie, saluto tutti. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.